Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O potente Dio, ci rivolgiamo a Te con umiltà e fiducia, implorando la Tua protezione contro il malocchio e ogni forma di male che possa affliggere la nostra vita. Conosciamo i poteri distruttivi del malocchio e le sue influenze negative sulla nostra salute, felicità e prosperità. Ti chiediamo, Dio onnipotente e misericordioso, di coprirci con il Tuo manto di amore e di allontanare ogni occhio malvagio o invidioso che cerchi di nuocerci. Con fede e devozione chiediamo la Tua intercessione affinché ogni incantesimo e maleficio sia rotto, distrutto, vanificato, disintegrato ed annullato e che la luce della Tua grazia e protezione brilli su di noi. Ti preghiamo, O nostro Dio, di purificare i nostri cuori e le nostre menti da ogni pensiero negativo o invidioso e di donarci la forza per perdonare coloro che ci hanno fatto del male. Confidiamo nella Tua bontà e misericordia, sapendo che sei il nostro difensore e il nostro salvatore. Ti chiediamo di proteggere noi stessi, i nostri cari e le nostre proprietà, le nostre fonti di sostentamento da ogni influsso negativo e di guidarci sulla via della pace, dell'amore e della prosperità. Accogli la nostra preghiera, O Dio, onnipotente e misericordioso, e libera noi, le nostre famiglie e i nostri cari, dal male del malocchio. Concedici, O Dio, onnipotente e misericordioso, la Tua benedizione e la Tua protezione continua, affinché, liberati da ogni forma di male, possiamo vivere con fiducia, salute, pace e serenità, testimoniando la Tua grandezza e l'amore che hai per noi. Ti chiediamo questo, in nome di Tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.